Io ero un'oncologa ospedaliera a tempo pieno e mi rendevo conto che all'interno delle corsie ospedaliere non bastavano solo le cure oncologiche, ma bisognava allargare il campo della cura al campo della relazione umana. Nella vita le occasioni possono aprire strade e fatti nuovi. Daniela De Giovanni è una delle testimoni della tragedia di Casale Monferrato. In prima linea per decenni è l'ospedale Santo Spirito. Gli anni delle catombe, centinaia di malati e di morti di mesotelioma, l'eredità dell'Eternit. Qualcosa mancava, qualcosa si doveva fare. Cercavo volontari che insieme a me venissero a casa del paziente a stare accanto al paziente ma anche ai familiari, spesso distrutti dal dolore, dalla confusione e dalle insicurezze. Il cammino di Vitas è iniziato così, la risposta dal basso della gente normale, soprattutto donne, che 23 anni fa cominciarono a prendersi carico dell'assistenza domiciliare dei malati, poi insieme a professionisti, anche dell'ospis della città. Patrizia è stata la prima volontaria. Tutte le volte che salivamo quelle scale e si apriva la porta, mi diceva adesso cosa mi aspetta. Poi invece le cose diventano semplici perché chi ti aspetta dall'altra parte è perché ti ha chiamato e sa che sei lì per dargli una mano e quindi tutto diventa semplice. Il fiume di Bene non si è più fermato, ha coinvolto anche chi è stato segnato in prima persona dal dolore. Monica ha deciso di fare qualcosa durante la malattia del padre, decisivo l'incontro con Daniela e i suoi volontari. Io ero in un tunnel buio e ho visto un punto di luce e da lì, quando poi è successo il tutto, ho detto non posso pensare che ci siano persone che possono trovarsi nella mia stessa situazione. Io ho conosciuto l'abbraccio, ho conosciuto persone che hanno avvolto di coccole il mio papà, non posso stare con le braccia concerte. Non so come, poi attraverso il corso di formazione ho capito, però fosse anche solo un abbraccio, una carezza, il mio esserci ci deve essere. Sono decine i volontari che si sono alternati in questi anni, non solo i malati di mesotelioma, ma anche quelli di Alzheimer, un volontariato che non si improvvisa. La formazione è fondamentale, perché sia come tipo di volontariato che come approccio medico-infermieristico è un approccio che deve essere studiato. Il resto è umanità che entra in circolo, al di là di paure di farsi imbarazzi e tabù. C'è una frase molto banale, fa paura quello che non si conosce e quindi nel momento in cui loro hanno voglia di conoscere questo mondo scopriranno che non è così spaventoso come loro immaginano e anzi è pieno di grandi ricchezze. Mi ha dato tantissimo e devo dire che anche è riuscita a farmi cambiare un po' il carattere, cosa che nessuno mai era riuscito a fare, perché io sono un'impulsiva, un po' chiusa, invece devo dire che stando a contatto con la sofferenza, con la malattia, con tanto dolore sono riuscita ad ammorbidirmi un po'. E questa è stata anche una cosa positiva anche per il resto della mia vita. Diciamo che non è facile, però per me preferisco stare coinvolgermi piuttosto che stare fuori, assolutamente. Lo rischio da correre? Assolutamente sì, proprio.